L'immagine è effettivamente suggestiva. Decine e decine di ombrelloni da spiaggia aperti in piazza Santo Ronzo a Lecce e passeggiata degli imprenditori e dipendenti degli stabilimenti balneari nel centro storico, tutto per chiedere di mantenere aperti i livi durante tutto l'anno. In effetti in Salento sono ancora presenti molti turisti, soprattutto stranieri, che continuano a frequentare anche le spiagge grazie alle temperature non ancora proibitive. L'obbligo di smontare strutture entro il primo novembre, secondo Feder Balneari, determina un grave danno per un settore che attira il 70% del turismo pugliese. A bloccare l'apertura per tutto l'anno sono i dictati imposti dalla sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici che vanno in direzione apposta rispetto agli indirizzi forniti della regione e anche le numerose sentenze del Tar Lecce che ha accolto numerosi ricorsi degli imprenditori contro l'obbligo di smontare e chiudere le strutture per quattro mesi all'anno. A fare sperare ai balneari c'è invece la recente comunicazione dell'ufficio legislativo del Ministero dei beni culturali che ha ritenuto il mantenimento annuale delle strutture balneari non solo possibile ma auspicabile.